Sono Elisabeth, è la mia prima volta che vengo ai corsi di Roy, sono molto contenta, ho imparato un sacco di cose belle, seguo queste tecniche olistiche da tempo e sono arrivata qui per mia figlia Fiorella, la quale anche segue Roy Martina e Joy. Quindi sono molto contenta, ho trovato persone meravigliose, anche la mia compagna di lavoro qua, Assunta, e quindi che dire, buon corso a tutti e lavoriamo solo. Ok, il corso è molto interessante, ci fa scoprire veramente cosa abbiamo dentro di noi e dà degli strumenti molto utili per capirci e per capire gli altri. Ciao, mi chiamo Antonella, sono qui per imparare dei nuovi strumenti, per vivere le emozioni diversamente, quindi essere più serena, più tranquilla. E in questo corso mi sto anche divertendo fra le altre cose, per cui è molto molto bello e loro sono molto carismatici. Ma io è anni che li seguo, li conosco, sicché conferme, conferme. E ci si rende conto che ogni volta, pur sentendo magari certe cose che pensi che siano entrate dentro, ogni volta ti vanno ancora più nel profondo e riesci in un modo o in un altro a capire che se sei qui non è un caso e che anche cose che possono sembrarti ovvie invece hanno una funzione, diciamo, perlomeno per me, personale, che mi porta a riscoprire ancora più risorse. Perché lo consiglio a tutti. Il mio feedback è molto elevato perché ho esattamente la risposta di quello che cercavo. Quindi sì, sono nel posto giusto, perché l'avevo già percepito quando avevo visto così delle situazioni precedenti e oggi ho avuto la conferma. Sicuramente questo è un percorso che va a lavorare molto più in profondità e abbiamo visto e seguito molti esempi di persone che sono guarite da situazioni, direi, drammatiche. Lavorando in sanità capisco cosa significa avere una malattia e vedremo con il proseguire anche degli altri moduli come andrà. Ne penso tutto il bene in considerazione del fatto che dieci anni fa avevo fatto un corso, già un seminario full immersion tipo questo con Roy Martina. In quell'occasione ha cambiato completamente la mia vita e adesso sono qui sia per una forma di gratitudine nei suoi confronti e per insaldare e approfondire ancora le tematiche che lui tratta. Ho appena detto ai miei compagni che sono felicissima di essere qui, finalmente la possibilità di lavorare con Joy e Roy Martina e soprattutto di apprendere cose veramente importanti per la mia crescita personale e per poter aiutare gli altri, perché il mio obiettivo è esattamente questo. Quindi grazie per essere qui, grazie a voi tutti e grazie a Joy e Roy. Grazie a tutti. Grazie a tutti.